Grazie Al mixer di sala Franco Finetti e Maurizio Nicotra, live design Mariano De Tassis, operatore Luci Carlo Pastore, riprese video live Sebastiano Montelli, impianto audio Davide Grilli, mixer di palco Erico Belli, produce Fabio Cerretti, direttore di palco Maurizio Magliocchi, coordinatore di palco Mariano Mariani, Camerini Angela Galasso, direttore di palco e di produzione Susanne Valerio Capelli, coordinatrice di produzione Cristina Bondi, assistente di produzione Francesca Simplicio, produzione Tattica e Friends and Partner Group, impianto video, audio e luci di Agorà, di Wolfango e di Vittorio De Amicis, scenografia Taxè, costumio Ubaldo Minelli, Dine e Dancaten, Verdi Square, Gabriele Maier per The One. E questo era quando? E poi? Uno, due, tre, qua, all'infinito, sempre, tutti i giorni della mia vita, dalla mattina fino alla sera, in questa testolina che sembra piccola, e in questo cuore che sembra piccolo, ma c'entrate tutti. Grazie! Ciao amore! Ciao amore! Ciao amore! Ciao amore!